Ciao ragazzi, siamo Chiara e Valentino di MyBar www.mybar.com Finalmente abbiamo trovato il tempo di registrare questo video unboxing perché in questi giorni siamo stati a tantissimi eventi Sì, siamo stati impegnatissimi, potete vedere anche sul nostro stream di Instagram abbiamo conosciuto anche alcuni VIP, tra cui, anzi, Paris Hilton e Belen abbiamo passato delle serate indimenticabili, siamo stati alla Terrazza Martini, ad esempio a Milano Sbivacchia, una vista meravigliosa e insomma siamo esausti, quindi abbiamo ritardato anche alcuni unboxing, ne abbiamo altri da fare Sì, siamo anche un po' in ritardo con gli articoli degli eventi Ci stiamo un po' impegnando, ma siamo sempre a lavoro, nel weekend, dal mattino fino a mezzanotte Sì, per te novità le vedrete man mano tante sorprese, ma non vi diciamo niente Sì, sì, intanto vi ricordo anche alle aziende che ci stanno seguendo, che ci hanno inviato dei prodotti che pian pianino riusciremo a testare tutti i prodotti perché noi realmente li testiamo ci teniamo a vedere gli effetti che fanno i cosmetici sulle nostre pelli Sì, infatti anche se passa un mese dal momento dell'unboxing è perché il prodotto lo stiamo realmente testando Esatto, alcuni prodotti iniziano a far vedere i propri effetti anche dopo due o tre settimane Esatto, ci sono dei prodotti che, ad esempio, quando ci vengono spediti richiedono meno periodo di test, tipo un bagno schiuma è più veloce da recensire rispetto a una crema di iso Però ci teniamo a testarli a fondo e a dire veramente Esatto, quindi non vi preoccupate, stiamo testando tutto anche suddividendolo e spedendolo alle nostre collaboratrici Sì, certo, non possiamo spalmarci tre creme contemporaneamente Sì, assolutamente, anche se ci piacerebbe Allora, ok, chi ci ha abbrito? Ok, Eris Cosmetic Esatto, è un'azienda italiana Trovate il sito qua nella grafica attorno al video Esatto, e produce prodotti a base di baba di lumaca Lumache italiane del parco di San Rossore, Marina di San Rossore Marina di Pisa Marina di Pisa del parco di San Rossore Sì, stai facendo un po' di diffusione Ed è l'unico allevamento di lumache Che è garantito e certificato da un parco naturale in Italia Speriamo di andare presto a visitarlo Anche perché conosciamo il parco di San Rossore Sì, noi una volta abitavamo a Basse Ci andavamo spesso Anche a fare le picciche Molto bello Ok Dai, iniziamo subito per la prima Forbici e apri Ok Che io sono sempre molto curiosa Sì, ce la farò E intanto vedete che Valentino sta facendo il teatrino Perché indossa No, indossi una maschera Sì, indosso una maschera a viso, una peel off Allora, non riesco ad aprirlo Dai Forse la mia torna mi stavo per dare una formiciata nel polso Vi davate il sangue Tanto siamo quasi sotto aloghi Aspetta, aspetta Sì, sto indossando la peel off di Elisabetta Ok, è un brand coreano Ok, che conosciamo molto bene L'abbiamo due volte raccontato sul nostro blog Sì, quindi potete trovare le recensioni sul blog Allora, le maschere peel off Mentre io assolutamente no Io non le supporto Perché ho la pelle sensibile Tutte le volte che le levo Non mi sento tirare e strappare la pelle Preferisco le maschere in tessuto Non mi piace strappolini Ok, allora guarda Ok Vediamo i declianti dell'azienda Guarda, che bello Wow, bellissimo La Lumacca del Parco È il consorzio appunto Consorzio della Lumacca del Parco Scusami Presso il centro ipico Bocca d'Arno Ok Marina di Pisa E vedo da questo Deplian Che Elis Cosmetic È la prima ed unica bava di lumaca Certificata da un parco naturale profondo Appunto quello di San Rossora e Pisa È bellissimo I proprietari Sì, ci sono le foto Sono Guarda, facciamoli vedere Marco e Greta E Greta Ok, Saldadori Sì Oh, aspetta Sì, sono proprietari e fondatori Hanno Hanno tanti progetti Non solo questo della cosmetica Quindi sono veramente Imprenditori Imprenditori Intraprendenti Esatto Diciamo, questi prodotti al momento sono venduti sul loro shop online Sì, hanno il sito con lo shop online Sì Sono anche cicatrizzanti Anche dopo interdenti Quindi anche nel campo medico verranno utilizzati questi prodotti E spero che si possa dire Ma mi hanno spoilerato Cosa? Che uscirà anche una linea uomo A base di bava di lumaca E anche linea bambino Ed inoltre avranno un prodotto per le dermatite degli animali domestici Ma dai Inizia a tirarmi la maschera Ok, magari te la levi in diretta mentre io sono una sbirciata Guarda che astuccia elegante Bellissima Questa rosso nera Lo è scende e oro Lo avvicino al po' Sì Guarda che bella Alice Cosmetic Andiamo ad aprire? Sì Wow Ok Allora Come ci sta questo? Sì Gigantesco, cos'è? Allora Questa è una perfezione full size Della crema corpo A base di bava di lumaca Di Alice Cosmetic Ed è una crema corpo Che contiene il 20% di bava di lumaca E inoltre contiene anche la papaya La curcuma Che hanno azione snellente Rassodante per il corpo Ed ipocastano Ah sì Per la microcircolazione Sì Mi piace tantissimo Il packaging esterno In cartone nero Con queste silitte dorate Che presumo poi riprendano anche il prodotto dentro E vedete appunto Il bollino del consorzio Della Lumacane de Parco Aspetta che lo facciamo Lo usiamo un po' Lo faccio vedere E poi se si vede Ecco c'è qualche diverso E poi lì Ok La cosa carina Stavo pensando Mentre scrivevi la confezione È anche un bellissimo regalo Per il Natale Che sta avvicinando Molto elegante Sì Presenta bene Ora vediamo anche l'interno Ok E inoltre da esperti di cosmetici E consumatori anche Perché noi andiamo anche regolarmente Nei negozi A comprare prodotti Noto una cosa che mi fa molto piacere Vali Noto che l'inci è scritto in maniera chiara E leggibile E questo è un punto a favore Non serve la lente di ingrandimento Esatto Perché è una cosa terribile Quando uno vuole sapere gli ingredienti E non riesce a leggere Deve avere una lente di ingrandimento Qui invece è tutto chiaro E leggibile Sì bello Bello contrastato anche Sì esatto Allora apriamo subito Apriamola Ah che mi auguro Guarda trasparente Si riesce anche a vedere Quanto Aspetta te la zoom Con i potenti mezzi della regia Eccola bellissima Bella Ed è una confezione da Per quanto penso 200 ml 200 ml Sì 200 ml Apri Sì Vediamo subito E ne metto un po' E allora perché Wow Effetto Velluto Che profilo Tra l'altro Io solitamente le creme corpo Quando ho la pelle secca Molto secca Delle mani Le metto anche sulle mani Utiliso anche dei sieri Prima di mettere la trema sulle mani Si assorbita? Sì Assorbita Assorbita Effetto pelle di seta Stupendo Stupendo perché come me Soffre di pelle secca Sì poi si può mettere anche Non è che si Che va spalmata dalla testa e piedi Possiamo mettere anche in quei punti Anche solo a zone Magari Siamo delle zone Siamo anche qua delle cicatrici Di corpo mi sembra Interessante Sì molto E questa è mia La provo io Sicuramente Perché non ho mai provato Mi ha già fregato Alla baba di lui Va bene Allora Chiara Abbiamo un elegantissimo sacchetto Ancora Ok Ah sì sì Guarda Il kit Travel size Che bello Allora qui abbiamo In questo favoloso Questa favolosa confezione Il The best Dell'azienda Che sono dei prodotti Travel size Sono venduti Nel loro sito Internet Nello shop online E Ci ricordiamo qualche prezzo Allora Io ricordo Allora La crema corpo Questa qua da 200 ml Al momento è scontata E viene 37 euro Ed è un prezzo eccezionale Per un prodotto del genere Il Il kit Che adesso vediamo cosa comprende Tra l'altro Stato Siamo su 66 euro Scontato Scontato Sì C'è un prodotto in partenza Particolare Che è top È il top della linea Infatti Ed è il siero Ma adesso vediamo Allora Il kit Si compone Appunto Del siero Questo qua Con punta gocce Provo a zoomarlo Un pochettino Sei ferma lì Sì Qua Eccolo qua Il siero Con punta gocce Vedete Ne servono Pochissime gocce Ha la particolarità Di avere All'interno Sì Sì Prova io Intanto qua Il 96% Di bava di rumacca Il 96% Tantissimo Tantissimo E in più Ho letto Vale Che non contiene acqua Non contiene acqua? Esatto Ha una formula Particolare Quindi è super concentrato È super concentrato E questo lo potete applicare Dove? Ho letto che va bene Per le rughe Per le smagliature Le macchie acneiche E le macchie solari Quindi nel mio caso Alcune macchie solari Valentino delle macchie solari E' buono Buono Delicatissimo Buono Non è invadente Ma è delicato Ci piace tanto Sì Lo testerò personalmente Questo lo testo io Ok Vale Te ne farò provare un pochino Poi sempre nel kit Oltre il siero Abbiamo la crema corpo Ed è ben da 100 ml Aspetta che ho visto Qua? Allora Ho visto nel Debian Sì Il mini kit Con i prodotti da portare In traversal Da portare sempre con te In borsa Per dei viaggi ad esempio Sono comodi Sì Molto comodi E questo è da ben 100 ml Ed è la crema corpo Di cui vi avevo appena parlato Ottima Perché quando anche vai in viaggio Ah sì Devi sempre avere una crema corpo Per idratare bene la pelle E poi abbiamo La crema viso E' una crema viso da giorno Cosa contiene? Allora questa Sì La crema da giorno Al 70% di vava di umacca Il 10-80% E poi tra l'altro La vava contiene collagene Elastina E' acido Blicolico Blicolico Che ha un leggero effetto Esfoliante Sulla pelle Ho letto che E' indicata per il viso E' decolleté Quindi insomma La possiamo usare Sì Sì Esatto Vediamola Questo stile Collo Non dimenticate mai Di curare il collo Che è importantissimo Perché tutti in genere Tendiamo a Sì Ci sono delle parti Del corpo Che vengono trascurate tanto E sono il collo E il decolleté Anche quando Applichiamo delle maschere Ricordiamoci di continuare a stenderlo Anche più giù del viso Sì Potere antirughe Io vi consiglio di Metterla anche sulle mani Ma sempre Sì Allora Aspetta Guarda Abbiamo Abbiamo Il cartoncino Con gli inci Sì Sì Mi piace che questa crema In questo vasetto Credo che sia Da 15 ml Mi sembra da 15 ml Abbiamo Abbiamo Un doppio tappo Vedete Il tappo Che chiude il barattolo Ma poi Il sigillo Per garantire L'integrità E la conservazione Ottimale Del prodotto Sì Allora Ti confermo 15 ml Esatto 100 ml Crema al corpo E 15 ml Il prezioso siero Ok Che ha Il Ne va pochissimo È super concentrato Sì Qualche goccia Abbiamo il 96% Di bava di lumaca Mi piace l'idea Di questo travel size Perché è possibile Testare tutti i prodotti Sì Anche appunto Non solo per Portarceli con noi In viaggio Ma appunto Per decidere Magari Se puoi riacquistarne Uno in full size Esatto In full size Perché comunque Hanno dei prezzi Medi Esatto Non proprio La portata di tutti Sono curatissimi Però Mamma mia Regali di Natale Qua Vanno benissimo Benissimo Si vede proprio L'alta qualità Non solo dei packaging Ma anche dei materiali usati Degli ingredienti utilizzati E poi Ripetiamo È bava di lumaca Certificata Da un parco naturale Protetto Elis La natura Fatta eleganza Guarda Va bene? Sì Ok Ci piace tantissimo Sì Grazie Elis Grazie Grazie Ragazzi Per averci spedito Questi meravigliosi prodotti E Continuate a Seguirci Prossimamente Avremo delle grandi novità Grandissime novità È un uovo Giveaway Naturalmente Sì Presto Anzi Siamo già in ritardo Giveaway Natalizio Con dei regalini Simpatici Ok Ok Ci salutiamo Ciao Grazie Ciao Ciao